Nuove preoccupazioni emergono nel settore automotive della provincia di Teramo, in particolare per le aziende specializzate nella produzione di sistemi di scarico. Marco Boccanera, segretario provinciale della film CISL, ha espresso questi timori in seguito all'incontro che ha visto la partecipazione di figure chiave come il ministro Urso, il governatore Marsiglio e i rappresentanti sindacali nazionali di settore. Durante l'incontro Stellantis ha rivelato la propria prontezza nell'adottare nuove tecnologie per un approccio flessibile all'elettricità del settore, riaccendendo le preoccupazioni per la Vallata del Tubo in provincia di Teramo, un'area industriale che si è concentrata sulla produzione di scarichi. Dal lontano 2018 noi diciamo che la Vallata del Tubo è una valle che ha molta importanza per la provincia di Teramo, quindi quello che chiediamo noi è comunque di dare maggiore attenzione. Dopo quello che è emerso al ministero lo scorso 4 aprile quando si sono incontrati il ministro Urso, Marsiglio e le parti sociali, tant'è che il nostro segretario generale Ugliano ha dichiarato la positività di Stellantis e lo stabilimento di Atessa, ma è chiaro che c'è un forte decalage di Stellantis in tutto il resto d'Italia e in più ha dichiarato di fare attenzione su tutto l'indotto, specialmente per le piccole e medie imprese, parlando specificamente dell'indotto di Teramo. Quindi quello che chiediamo noi è il prossimo convegno che il presidente Marsiglio farà sull'automotive, una partecipazione delle rappresentanti terramane che cominciano a sbattere i pugni per far capire che esiste anche la Vallata del Tubo, soprattutto di un'importanza strategica notevole. I circa 3.000 lavoratori del comparto attendono quindi con speranza che l'incontro di maggio possa portare soluzioni concrete e strategie efficaci per navigare questa transizione verde, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro e la competitività dell'industria locale nel panorama globale dell'automotive sostenibile. Riattiviamo quel tavolo famoso che avevamo iniziato poco prima delle elezioni, sospeso perché Confindustria aveva una parte a cui non piaceva su quel protocollo che stavamo stilando, su quel documento. Siamo interrotti anche per le votazioni. Quindi ripristinare quel tavolo, questo va chiesto al sindaco D'Alberto, e cominciare seriamente a parlare delle problematiche della Vallata del Tubo, tra cui quello che io ho sempre detto e ho cercato di far capire che è necessario oggi più che mai con una transizione del genere attivare anche l'area di crisi complessa nella provincia di Termo. Questo per far sì, non per godere degli ammortizzatori sociali, ma per permetterci di prepararci a questo cambiamento epocale che arriverà prima o poi. E quindi noi non possiamo rischiare di rimanere indietro.